ed eccomi qua sono arrivata anch'io ad acquaria di monte creto siamo qui ai piedi del monte cimone ad ospitarci è casa gianino questo bellissimo agriturismo questo splendido casale qui alle mie spalle e siamo qui perché è proprio qui all'interno che ci faremo ci scambieremo gli auguri di buone feste claudio che ha concluso il tour in stalla prima in caseificio poi qui a pochi passi dovrebbe già essere all'interno e dovrebbe almeno credo essere alle prese con la preparazione dei ciacci comunque poi andremo a vedere prima di entrare però vale la pena di guardarsi un pochino torno di raccontare anche la storia di questo antico casale nato nel 1533 come convento quindi una storia antichissima poi nel 1760 divenuto la dimora padronale della famiglia carlotti anzi di gianino carlotti e da lì il nome e tra l'altro un momento della storia che è ricordato in un documento originale che credo si conservi all'interno poi ovviamente la storia è andata avanti e all'inizio degli anni 2000 il restauro che lo ha riportato all'antico splendore e l'avvio di questa attività agrituristica questo è proprio l'attività agrituristica questo è il regno di silvia e morgan fratelle e sorella silvia morgan cantergiani che dalla famiglia che di queste zone di queste terre è originaria da generazioni e dalla famiglia hanno ereditato quelle che sono le terre la passione per l'agricoltura anche la passione per la buona cucina cucina dove peraltro è fondamentale il supporto di mamma adriana ma io direi a questo punto di entrare vedere che cosa sta facendo claudio e poi scambiarci gli auguri mi trovo nella cucina dell'agriturismo casa gianino sono con la signora cantergiani e lui è morgan il figlio beh adesso ci spiega e ci fa vedere come si fanno i ciacci che è un antico piatto un piatto della tradizione dell'appennino un piatto povero veniva consumato anticamente sempre nei periodi invernali in realtà poi si mangia tutto l'anno vero esattamente si adesso quindi a differenza di altri prodotti che sono chiamati piatti poveri come il borlengo di guiglia ad esempio che è una diciamo è una specie di ciaccio ma con delle differenze ce le spiega adesso ce le spieghi tu mentre adriana ce le fa vedere allora la prima cosa da spiegare è che vengono fatte con delle piastre che sono chiamate morgan cotte cotte che sono delle piastre di acciaio che vengono unte o ingrassate con la cotena del prosciutto ce lo fa vedere adesso adriana allora la cotena del prosciutto che serve per dare quello strato di quel velo di grasso in modo che diciamo così il ciaccio non si incolli o si bruci attaccato alla cotta dopodiché c'è un impasto particolare molto colloso fatto con dei cereali dell'appennino sì e farina sostanzialmente qual è l'ingrediente di questo diciamo impasto di questa colla è molto semplice molto anche qua povero possiamo dire perché fatto con farina acqua e sale quindi pochissime cose dopodiché viene le piastre si chiudono vengono sovrapposte e poi occorrono quanti minuti pochi minuti qualche minuto si dai due ai tre minuti dipende dalla velocità del fuoco e dall'abilità di chi li cucina per tenerlo più alto ci vanno un po meno tempo adesso aspettiamo che adriana ci faccia vedere quando è pronto dopodiché vediamo come viene questo condimento che è un condimento anche questo povero no che richiama un po la tradizione del territorio ed è composto di che cosa allora viene composta un battuto di lardo e pancetta di maiale chiaramente con l'aggiunta di rosmarino e aglio fresco viene tutto tritato mescolato e in aggiunta questo ci va data una spolverata di parmigiano reggiano adriana è molto attenta e molto attenta perché non deve scappare ovviamente di cottura perché non si può certamente fare brutta figura in questo caso no però l'esperta non credo che si sbagli è no ci vuole un po più di tempo perché sorride la mamma è sorride perché non essendoci il lievito quindi ha bisogno di un giusto tempo per riuscire a cuocere uniformemente quindi qua niente lievito non lievitati allora ormai direi che ci siamo vedo che adriana sta controllando e mi dice che è pronto così vediamo la fase finale che è quella che dà il tocco di aroma a questo prodotto molto povero eccolo qua lo si mette e qui eccoci qua questo è quella concia che viene spalmata ne va poca dico bene non va non va non si esagera in questo caso perché molto saporita molto saporita poi c'è il tocco finale l'immancabile parmigiano reggiano non può mancare non può mancare in questo caso anche di un caseificio che ha pochi passi da qua e poi di che abbiamo visto insomma peraltro eccoci qua pronto per essere mangiato sentiamo la consistenza eccolo qua ma io questo però lo porterai in tavola questo lo portiamo in tavola perché dobbiamo fare vedere questo prodotto assieme ad altri portiamoli in tavola assieme a questo lo porti tu eccoci qua se a posto così grazie adriana ed eccoci qua con i ciacci fatti da adriana e commentati da morgan intanto ci ha raggiunto marco casaro del casello scusate il gioco di parole ripongo questi ciacci poi diremo qualcosa perché qua ciacci borlinghi zampanelle c'è un mondo no di questi prodotti quindi faremo una piccola descrizione una mini enciclopedia del ciaccio e simili della zona dell'appennino allora intanto io lì ce ne sono due secondo me ne ha fatti di più è stato un controllo qualità è certo prima di portare in tavola pure dobbiamo pure fare questo saggino no conosco come si dice benissimo allora intanto siamo qua ci siamo radunati per questa puntata delle feste abbiamo io vi ho detto questo è il regno di silvia e morgan morgan che ce l'ha già presentato claudio lei e silvia e poi c'è mamma adriana dietro le quinte ma fondamentale e siamo qui con tantissimi prodotti belli gustosi per le feste non solo per le feste io direi che qua abbiamo l'appennino sì sì almeno la parte invernale perché magari sono un poco impegnativi cosa dici cominciamo comincio se per perché volevo capire azienda agrituristica la parte enogastronomica l'abbiamo vista ma c'è anche una componente agricola morgan o sbaglio ecco allora raccontaci sinteticamente e che cosa fate come nasce questa azienda e quali sono anche diciamo le produzioni che fate in questo contesto anche molto bello e anche panoramico sì anche perché siete piuttosto alti voi come altezza quindi agricoltura qui non è mica fatti noi siamo intorno ai 780 metri dell'azienda l'agrituristica e anche l'azienda agricola noi abbiamo una piccola realtà agricola abbiamo circa 60 animali fra tutto diciamo che il 90 per cento degli animali sono allevati per la produzione di latte che va conferito al caseificio casello per la produzione di parmigiano reggiano ricotta e burro quindi va a finire anche dentro a questa forma qua ecco bene il vostro latte anche lì esatto una piccola parte anche del nostro latte poi abbiamo circa 10 per cento di animali che vengono allevati per la carne sempre usufruita all'interno dell'agriturismo dopo abbiamo anche i grani che vengono sempre lavorati da noi e utilizzati per le paste fresche le crescentine il gnocco fritto usate grani particolari grani antichi so che qua in appennino si utilizzano molto anche magari si va a ricercare dei grani che anticamente si coltivavano fino adesso abbiamo sempre utilizzato un grano più moderno diciamo così quest'anno abbiamo seminato anche il grano antico che andremo poi a utilizzare nel 2024 a proposito di grani che poi magari si vedrà con le produzioni se cambia qualcosa però intanto questi qua sono fatti buona parte con le vostre farine sì esatto si vengono fatti con le nostre farine che vengono le lavoriamo per poi produrre tortellini tortelloni come dice mio fratello anche gnocche crescentine che proponiamo dopo ai nostri clienti e poi qua ci sono questi bellissimi maccheroni che sono fatti in modo un po particolare esatto quelli vengono prodotti li produciamo noi sempre con la macchina al torchio e poi noi li condiamo con il ragù di cinghiale che diciamo che il nostro piatto più famoso che abbiamo che diamo ai clienti ecco con la vostra bandiera insomma sono sono veramente bellissime anche perché così fatti al torchio poi prendono il sugo in un modo in un modo incredibile quindi e poi vabbè qua abbiamo il il classico adesso evito la solita ironia perché voi ormai lo sapete tutti io sono di bologna e lui è di modena qua siamo in provincia di modena qua potremmo aprire un dibattito il solito dibattito infine sì separata sede non tormentiamo chi ci segue col fatto se queste sono le tigelle le crescentine poi quelle la tigella quello è il gnocco fritto come si chiama si chiami come vuole però questi fanno parte proprio dei sapori della montagna certo esatto questi fanno parte dei sapori della montagna che vengono sempre ricercati in qualsiasi momento dell'anno comunque sono piatti sia estivi che comunque invernali e vengono accompagnati sempre con gli affettati dei formaggi comunque quelli prodotti anche in zona ecco sì qua tanto per cominciare e senti facciamo che per arrivare prima di arrivare a fine pasto facciamo una breve pausa e poi dopo ci ritroviamo poi così diamo anche il via a marco per vedere tu hai hai detto la parola magica sapori dopo ti dico il perché allora una breve pausa e poi ci ritroviamo fra pochissimo